Buongiorno dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono code per il traffico intenso in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. In A11 code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. Spostandoci in FIPLi code a tratti per il traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Rallentamenti sempre per traffico intenso tra Firenze Scandici e Scandici in direzione Livorno. Per la viabilità cittadina a Firenze e per i cantieri della tramvia in vigore di vieti di sosta a tratti in via Cosseria tra i civici 18 e 20 e tra il civico 30 e via Crimea. Si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!